Musica Dobbiamo educarci a dire grazie, a ringraziare, ad avere un cuore pieno di gratitudine e questo ci rende felici vedete che fino adesso non abbiamo detto quasi niente soldi uguale felicità, potere uguale felicità, no 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 piccole cose e lo faremo, piccole cose ve lo ripeto, l'ho detto già altre volte le persone più felici che io ho conosciuto nella mia vita sono due tra virgolette categorie i poveri, felici, poveri e felici felici e poveri e i ricchi, poveri tra virgolette cioè poveri di spirito cioè capaci di donare e condividere quello che hanno se tu sei povero di spirito o sei ricco nel senso che possiedi o se non possiedi o possiedi poco tu doni quello che hai dire e imparare ad avere un cuore distaccato ci aiuta ad avere un cuore pieno di gratitudine verso Dio e verso gli altri ieri abbiamo detto abbiamo dato dei piccoli suggerimenti su come educarci al ringraziamento su come educare i nostri figli al ringraziamento e abbiamo detto quando sia importante la mattina educare i figli a dire grazie anzitutto a Dio e poi a dirsi grazie ma anche durante la giornata mentre facciamo una cosa mentre ci capita una qualsiasi cosa mentre vediamo una cosa bella dire grazie dire grazie perché quello e dire grazie a Dio perché quello mi fa capire che quello che vedo quello che ho quello che in quel momento mi si presenta non è mio ma è dono di Dio si viaggia si vedono immensi panorami dire grazie a Dio si è destinatari di un buon momento di fraternità di un pranzo dire grazie a Dio di una cena dire grazie a Dio ecco quanti di noi prima di mangiare ma ne facciamo due di pasti ne facciamo uno soltanto di pasti insieme come famiglia laddove ancora nelle famiglie si mangia insieme ma almeno dire grazie all'inizio signori ti ringraziamo per questi doni ti ringraziamo per la mamma che li ha preparati ti ringraziamo per il papà che ce li ha portati con il suo lavoro ma anche per la mamma quando lavora ti ringraziamo della fortuna che abbiamo e aiutaci a fare della nostra gratitudine un motivo di carità per chi non ne ha piccoli gesti piccole cose e lo dico soprattutto alle giovani famiglie educatevi al ringraziamento educatevi alle cose belle della vita e così darete la felicità ai vostri figli la felicità non viene se lascio una casa due case tre case il condimbanco eccetera eccetera non è quella la felicità anzi più delle volte quelle cose diventano ahimè motivo di divisione di guerra nella famiglia viene dall'amore e dai valori che noi siamo capaci di dare sin dall'inizio sin dal primo vagito sin dal primo vagito ai nostri figli ricordo una mamma che quando era gravida ogni tanto vedevo che si fermava un attimo metteva la sua mano sulla sua pancia abbastanza grande perché gravita chiudeva gli occhi e io non capivo che cosa accadeva e dicevo ma ti senti bene? e lei mi diceva no io di tanto in tanto tocco il mio bambino che è nel mio ventre e dico signore grazie grazie bene io sono convinto che quel bambino che poi è nato e sta crescendo avrà dentro un cuore pieno di gratitudine vi aspetto domani Padre Pio TV dritto al cuore ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti